Trasmettere attraverso il calcio i sani valori dello sport, che contribuiscono alla formazione di una persona in tutte le sue sfaccettature. Un camp estivo dedicato ai bambini e bambine dai 6 ai 14 anni che si svolgerà dal 9 al 28 giugno presso lo stadio Romeo Neri di Rimini, in sinergia con l'assessorato allo sport, le strutture cittadine e i partners aderenti. Il progetto Camp Città di Rimini dà un'idea di Cevoli Roberto, Porchia Sandro, Bravo Paolo e Ravelli Marco, in collaborazione col Comune di Rimini e con l'Associazione Italiana Calciatori, nasce dall'esigenza di offrire un servizio di qualità a sostegno delle famiglie di Rimini e non, per rendere le settimane di vacanza in città un'esperienza da ricordare. Siamo contenti che ex calciatori del Rimini, da Sandro Porchia, Paolo Bravo e Umberto Calcagno, seguendo percorsi professionali di vita diversa, si sono ritrovati oggi in questo duplice progetto. Umberto Cancagno oggi è vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori e quindi è stato il mio, il nostro partner fondamentale per organizzare innanzitutto due momenti educativi che verranno fatti in collaborazione con gli istituti scolastici superiori di Rimini e che sono legati proprio alla divulgazione di valori culturali dello sport, quali la lotta alla ludopatia e l'altra invece il tema dell'eccesso di medicalizzazione. La ciliegina finale che poi sarà la prossima estate in giugno sarà questo camp organizzato invece anche qui da ex calciatori del Rimini. Lo scopo soprattutto è quello di insegnargli magari valori sportivi, valori etici del calcio e della vita in generale e poi soprattutto è quello di farli divertire il più possibile, anche perché staranno con noi dalla mattina alla sera quindi il nostro obiettivo è quello di fargli passare una giornata, delle giornate favolose. Tra poco avremo un sito dove potranno collegarsi e accedere al link per l'iscrizione. Speriamo che vengano più bimbi possibili. Grazie a tutti.